Ora è del tutto evidente che abbiamo purtroppo drammaticamente una ragione in più per chiedere il ritiro dei nostri soldati dall'Iraq, visto che gli alleati dei nostri militari, ossia i militari americani, non sono affidabili neanche quando fanno un posto di blocco. Siamo alleati, siamo amici, è una cosa tristissima e dolorosissima, ma certamente è un incidente. Si tratta di appurare esattamente come sono andate le cose e quali sono, se ci sono, e sicuramente ci sono da una parte o dall'altra, le responsabilità per l'incidente, ma non esistono elementi tali da mettere in discussione la nostra tradizionale amicizia per gli Stati Uniti. La cosa più controversa sicuramente riguarda la presenza di John Negroponte perché è stato attivato un checkpoint in forma illegale, come ritengono gli italiani, e questo ha copertura di un passaggio che rischia di non esserci mai stato. Questa cosa è un elemento di grandissima ambiguità, era stata secretata ma poi disvelata nel rapporto americano, è presente nel rapporto italiano e credo che sia alla base di tutta la vicenda. Non è la questione della velocità dell'auto di Calipari, è una questione che risale a un qualcosa che è stato pianificato, probabilmente per contrastare le posizioni autonome dell'Italia sulla vicenda medio orientale, neanche solo sulla questione degli ostaggi.